oh buon pomeriggio signori allora in molti state chiedendo con i recenti upload delle live di silent il parentesi ero convinto fosse l'ultima parte la 5 ma in realtà la 6 è in montaggio adesso grazie a kenny il montatore e arriveranno anche le parti di silent il 4 che sto giocando in questo momento su twitch volevo volevo segnalarvi silent il 2 non è stato ricaricato perché è passato troppo tempo per le live e sono andate praticamente tutte perse tranne l'ultima parte l'ultima parte è stata già montata quindi voglio sapere se per voi è inutile praticamente upare solo l'ultima parte o comunque carico lo stesso dato che già pronta la l'ultima parte di silent il 2 fatemi sapere e soprattutto volevo farvi sapere qual era stato il destino del delle parti di silent il 2 dato che appunto avete visto questo salto dal primo al terzo ecco tutto qui alla prossima ciao